Un loculario sindaco importante che risolve una serie di problemi che si erano accumulati negli anni. Sì, finalmente abbiamo il progetto definitivo e a breve quello esecutivo da 2770 salme che ci consentirà, fra l'altro molto bello architettonicamente, che ci consentirà definitivamente di risolvere il problema dello spostamento delle salme e dare corso alla demolizione e ricostruzione del complesso dei nove martiri e alla sistemazione e al restauro di quello monumentale. Inoltre ci sono interventi programmati su quasi tutti i cimiteri delle frazioni e questa è una notizia importante. Ecco, da ultimo si sposa, tra virgolette, con quello che è il memoriale, il monumento, quello su Piazzale Paoli, questo tipo di intervento architettonico che state mettendo in campo nel cimitero? Sì, il culto dei morti è un momento essenziale per la storia di una comunità e non abbiamo solamente voluto ricostruire dei luoghi della memoria, ma li abbiamo voluti fare anche architettonicamente pregevoli.